novembre 1908 alla presenza della miglior borghesia triestina viene inaugurato il grande frenocomio di San Giovanni 20 ettari di parco e 30 edifici progettati da Ludovico Braidotti con teatro, chiesa e villaggio del lavoro due guerre mondiali l'inconsistenza culturale e pratica della psichiatria un dopoguerra investito dall'esodo dall'Istria e via via il grande affollamento della struttura si arriva negli anni successivi a un progressivo degrado dell'insieme previsto all'apertura per 400 persone l'ospedale psichiatrico di San Giovanni registra nel 1970 una presenza di 1260 persone internate amministrazioni deboli negli anni 50 e 60 aggiungono difficoltà a difficoltà nella gestione del complesso alla fine degli anni 60 la nuova amministrazione provinciale di centro-sinistra vuole e deve farsi carico di una situazione ormai drammatica presidente giovanissimo della provincia Michele Zanetti dentro una spinta al cambiamento e all'innovazione complessiva nella politica della città sceglie Franco Basaglia già noto per il lavoro a Gorizia e per il successo del libro l'istituzione negata su quell'esperienza come uomo che potrebbe dare un segno di svolta nel governo della struttura e di radicale mutamento culturale nell'approccio alla questione psichiatrica siamo negli anni della guerra fredda a Trieste passa il confine rigido tra i due blocchi del mondo la nuova politica vorrebbe tentare condizioni diverse nelle relazioni tra le genti rompere la glacialità del rapporto determinato dall'esistenza di questa linea di divisione e da tutte le conseguenze culturali che un confine così drammatico aveva immesso nella città di Trieste l'amministrazione provinciale dà carta bianca al nuovo direttore e dal 1971 al 1978 Franco Basaglia interviene con un vastissimo gruppo di operatori si forma una prima equipe di medici psicologi, assistenti sociali, sociologi una trentina di persone giovani e motivate che operano alle dipendenze dell'amministrazione provinciale con numerose borse di studio assegnate dalla provincia arrivano francesi, spagnoli e giovani laureati italiani poi si associano moltissimi studenti e volontari provenienti da ogni paese del mondo e da Trieste chiamati dall'interesse che l'esperienza suscita in pochi anni l'ospedale cambia completamente non è più un luogo chiuso i primi passi sono l'apertura delle porte dei singoli padiglioni poi la rottura della separazione tra i padiglioni degli uomini e quelli delle donne la creazione di molti momenti di socialità la fuoriuscita dalla vita stereotipata e carceraria dei reparti la creazione di bar di innumerevoli situazioni di comunicazione tra le persone che in vario modo abitano il comprensorio assemblee quotidiane nei reparti a cui partecipano i pazienti assemblee quotidiane di direzione per seguire giorno per giorno l'evoluzione della trasformazione migliora la vita interna dei reparti i vestiti l'attenzione alle esigenze minime delle persone internate la libertà di circolare legata anche a una libertà di parola libertà di espressione ricercata voluta provocata attraverso queste innumerevoli riunioni incontri laboratori e ancora il mutamento radicale del ruolo degli infermieri concepiti fino ad allora poco più che come guardiani gradualmente si costruisce la possibilità per chi è ricoverato di uscire dall'ospedale c'è una legge del 1968 che consente i ricoveri cosiddetti volontari e successivamente si mette in moto un meccanismo di dimissione formale anche per chi non aveva alternative abitative legato a un particolare statuto l'ospite immaginato per dare totale libertà a persone costrette da condizioni economiche e sociali la povertà la solitudine e non da condizioni cliniche la malattia arrestare a San Giovanni si realizza a man mano una sorta di liberazione dai vincoli della legge del 1904 in vigore allora e ispirata a controllare la malattia mentale con principi puramente carcerari è una graduale re-immissione nella libertà fisica nella ricostituzione dei diritti civili di ciascuno degli internati attraverso procedimenti avviati con il tribunale si opera una restituzione di quella cittadinanza che l'internamento in ospedale e psichiatrico sospendeva spesso per sempre la libertà è terapeutica anni di grande trasformazione e di grande entusiasmo e partecipazione della città a una serie di eventi il concerto di Ornette Coleman quello degli area e gli spettacoli teatrali fatti all'interno del comprensorio dell'ospedale psichiatrico per rompere le barriere tra il dentro e il fuori Dario Fo Yell Comedians eccetera fin dall'inizio uno straordinario laboratorio condotto da Vittorio Basaglia e Giuliano Scabia che fa nascere tra l'altro Marco Cavallo grande scultura in cartapesta da allora simbolo della liberazione da tutti i manicomi nell'ospedale psichiatrico molti pazienti lavorano da sempre gratuitamente in nome dell'ergoterapia contribuivano al funzionamento dell'istituzione si costituisce una vera e propria cooperativa si innesca il potente meccanismo del riconoscimento del lavoro con veri salari si recuperano i libretti bancari e piccole proprietà di ciascuno degli internati si attivano i sussidi in denaro per permettere a tutti di uscire fuori avendo una minima autonomia per farlo nascono nuovi modi di abitare per vivere fuori dall'ospedale psichiatrico appartamenti protetti con personale infermieristico per piccoli gruppi di pazienti ritorno in famiglia delle persone che una famiglia accogliente potevano ancora ritrovare allestimenti di situazioni autogestite all'interno dell'ospedale luoghi senza più personale di custodia e sorveglianza dove piccoli gruppi di persone possono semplicemente vivere questi e innumerevoli altri passaggi portano progressivamente a una riduzione importante del numero dei degenti e a una perdita via via più forte della cultura del manicomio e della sua necessità si estende gradualmente una consapevolezza sempre più ampia del fatto che il manicomio non è in grado di rispondere alle esigenze delle persone e che occorre creare delle alternative queste alternative man mano si costruiscono ma soprattutto si preparano per il futuro nei primi mesi del 1977 si decide e si annuncia in una conferenza stampa la chiusura programmata e programmatica dell'ospedale psichiatrico quando ancora dentro San Giovanni c'erano circa 500 persone l'amministrazione provinciale e il direttore Franco Basaglia annunciano al mondo che l'istituto è destinato ad essere chiuso e che quindi si deve provvedere in tutti i modi possibili per raggiungere questo risultato questo sarebbe stato il destino dell'ospedale Jean-Paul Sartre Michel Foucault Félix Guattari Robert Castel intellettuali e movimenti sociali entrano in forte raffronto con Trieste un anno dopo nel maggio del 1978 il governo italiano vara la legge 180 che recepisce questa programmazione e decide che dall'anno successivo nessuno può più essere ricoverato in ospedale psichiatrico fermo restando che le persone che ancora sono ricoverate possono rimanervi fino a quando non si sarebbero trovate delle alternative nel contempo tra il 1976 e il 1977 si iniziano ad allestire i primi centri di salute mentale nella città Barcola Aurisina e Muggia che cominciano a prendersi cura delle persone nei quartieri vicino a casa fuori dall'ospedale psichiatrico nel 1980 con un unico atto viene chiusa definitivamente l'accettazione dell'ospedale psichiatrico e definita la nuova organizzazione di fatto già costruita con 5 centri di salute mentale aperti 24 ore su 24 7 giorni su 7 e un piccolo servizio all'ospedale generale come previsto dalla legge 180 i 5 centri di salute mentale a 24 ore sono in grado di ospitare ciascuno un piccolo numero di persone perché a volte si ha bisogno di un posto dove stare per pochi giorni o per un po' più a lungo fino a quando la crisi non è superata i centri svolgono attività ambulatoriale e domiciliare sono ciascuno il riferimento per un pezzo di Trieste e provincia per tutti i bisogni di salute mentale della popolazione cresce anche l'esperienza delle cooperative dopo la prima la cooperativa lavoratori uniti nata nel 1973 dentro l'ospedale psichiatrico arrivano negli anni anche la cooperativa agricola la cooperativa il posto delle fragole e poi i confini la collina e la piazzetta i centri di salute mentale le cooperative la rete dei gruppi appartamento le case famiglie e i laboratori costituiscono un nuovo modulo di servizi che si afferma e si consolida negli anni successivi a 30 anni di distanza questa organizzazione è tuttora considerata la migliore possibile Franco Basaglia chiamato a Roma lascia la direzione dell'equipe di Trieste nel 1979 l'equipe di Trieste continua il lavoro rafforzando sviluppando e perfezionando il modello organizzativo viene diretta da Franco Rotelli dal 1980 al 1995 e poi da Giuseppe dell'Acqua nel 1995 Franco Rotelli è chiamato a sviluppare i servizi territoriali extrapsichiatrici e poi come direttore generale dell'azienda dei servizi sanitari di Trieste dal 1998 al 2001 e dal 2004 a oggi c'è quindi una continuità di lavoro di filosofia e di strategia sanitaria pubblica a partire dallo specifico psichiatrico in tutti quegli anni la fama dell'esperienza chiama a Trieste migliaia di visitatori il sostegno forte alla legge 180 determinato dalla robustezza dell'esperienza fa sì che anche da vari paesi europei e non si guardi a Trieste come a un esempio concreto e di sostenibilità alla chiusura degli ospedali psichiatrici negli anni 90 l'equipe di Trieste viene chiamata a sciogliere un grande ospedale psichiatrico all'Eros in Grecia a seguito di uno scandalo sulle condizioni infami in cui erano detenute le persone internate un'offesa per la civiltà che fece il giro d'Europa e inoltre l'equipe di Trieste opera in interventi di collaborazione con il Brasile con l'Argentina con la Repubblica Dominicana in alcuni paesi dei Balcani e in molte regioni d'Italia la rete internazionale nata già negli anni 70 via via modifica la propria composizione e mantiene vivo il rapporto tra Trieste e il resto d'Italia d'Europa e del mondo episodi e storie specifiche si inscrivono sempre in una tensione culturale che fa uscire definitivamente la psichiatria da schemi positivistici biologistici semplicistici riduttivi e similmente si pone la questione di rivisitare tutte le istituzioni cosiddette totali istituzioni cioè che assumono globalmente in carico le persone in condizioni separate sanzioni dell'esclusione sociale e della separatezza dal corpo sociale destinate prevalentemente ai soggetti più deboli l'esperienza del cambiamento a Trieste mette quindi in gioco questioni rispetto ai minori al carcere alle case di riposo per gli anziani e in generale a tutti gli istituti che hanno caratteristiche di totalitarietà questa storia ancora in movimento pone in discussione il rapporto di potere tra medici e pazienti non solo dentro la psichiatria in cui queste relazioni si configuravano in modo più caricaturale e visibilmente violento ma anche dentro il corpo più generale della medicina altrettanto vale per le politiche sociali e per la questione essenziale di una ricomposizione tra queste e le politiche sanitarie nella visione di una persona unica portatrice di bisogni complessi che in moltissime occasioni e per strati molto vasti di popolazione non possono essere ricondotti esclusivamente a una matrice medica o sociale la legge di istituzione del servizio sanitario nazionale del 1978 legge 833 riunifica tutte le competenze sulla sanità in un unico organismo l'amministrazione provinciale perde la competenza in materia di psichiatria e non hanno più competenze specifiche le mutue e altri organismi un'unica competenza generale è affidata dapprima alla cosiddetta unità sanitaria locale 1980 e successivamente alla cosiddetta azienda per i servizi sanitari 1995 nel 1998 la regione Friuli-Venezia-Giulia distingue tra ospedale e territorio istituendo un'azienda sanitaria territoriale divisa da quella ospedaliera nasce così l'azienda sanitaria numero 1 Triestina che incorpora il dipartimento di salute mentale struttura che dopo la chiusura dell'ospedale psichiatrico collega tutti i servizi di salute mentale e incrementa anche in tutti gli altri settori della medicina servizi territoriali alternativi agli ospedali generali anno origine si sviluppano i distretti sanitari 4 a Trieste provincia che si occupano di tutto quello che può evitare l'ospedale e l'ospedalizzazione dalla cardiologia alla pneumologia la geriatria la fisiatria tutte le branche specialistiche possono trovare nel territorio risposte molto importanti via via sempre più sviluppate che evitino il ricovero in ospedale questa è la missione dell'azienda sanitaria territoriale che si forma proprio sulla matrice di quanto avvenuto più radicalmente nella psichiatria laddove si è ritenuto che l'ospedale potesse addirittura avvenire meno complessivamente con circa 2000 dipendenti diretti e indiretti l'azienda copre tutto il territorio della provincia di Trieste di circa 240.000 abitanti si sviluppano il centro sociale oncologico il centro cardiovascolare quattro centri diabetologici strutture riabilitative e per i minori residenze sanitarie assistenziali con una sempre più rilevante assistenza nella comunità anche nel resto della sanità la riduzione del ruolo dell'ospedale accompagna e accompagnerà negli anni dal 1995 ad oggi lo sviluppo di servizi polivalenti articolati nei quattro distretti sanitari in un dipartimento di prevenzione nel dipartimento per le dipendenze oltre che nel dipartimento di salute mentale un insieme di strutture che con i medici di medicina generale e la medicina primaria offre nel territorio un'imponente quantità di servizi al cittadino a domicilio o comunque fuori dalle mura dell'ospedale dagli spazi chiusi all'aperto dal 1971 ad oggi si è dispiegato un percorso non semplice né lineare rivolto a promuovere la cura della persona nel suo habitat con altri e con gli altri tutti aventi diritto nessuno escluso nulla di ciò che è accaduto qui in questa storia di 40 anni fu mai senza contraddizioni e conflitti nulla mai è stato regalato ogni passaggio fu controversia e impegno di molti e soprattutto impegno politico culturale fisico affettivo etico di tecnici mai come oggi negato mai come oggi riconoscibile come il vero bene da convocare per il futuro di tecnici che c'è di tecnici di tecnici Grazie a tutti